Forza ragazzi, dai, abbiamo il ritorante prenotato alle 13.00 in punto, eh? Cazzo vuoi, grattaculo, che è sabato e lavoriamo solo le due! C'è un programma, ecco, a questa settimana dobbiamo consegnare 20 tavolini scarti d'autore, 3 sedie d'Europa e 216 pannelli scarti d'Oriente. Tu quindi vedi 216 pannelli scarti d'Oriente? No, sono 215. Dai, 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 fai a Parigi, aspetta. Sono indeciso sui prigli. Difficio! Per il tris, per il tris è buonissimo. Per il ristorante bisogna lasciare la mancia. Dobbiamo lasciare la mancia. Sì? Io non lascio niente, non lascio niente. Ma no, eh, se non lasci la mancia non sai nessuno, eh. Signor Rossi, mi servono per giovedì 6 sacchi di acero beige chiaro. Signora Luisa, il 18 c'è un cambio turno perché poi... Basta, è festa. Dai che facciamo tardi al ristorante, su. Sì, però lei martedì alle 20 ha quell'incontro con i francesi. D'accordo. Allora io vado a lavarmi. Ma che francesi? Io ho la cena con Sara, cancello i francesi. Ma no, eh, non può fare il bidone ai francesi, eh. Se fai un bidone ai francesi, quelli ti portano il canile ai francesi e ti... Non si può fare. Seguo la bianca, non si può fare. Eh. Ragazzi! Eh, venite per te. Ciao. Forza! Prego, soci. Ma no, eh, voi non dovete arrivare oggi, eh. Questi qui arrivano il 13 alle 11. No, no, signor Fabio, arrivano l'11 alle 13. Allora, a questo punto mi sa che ci vuole un discorso. Mi sa che il presidente vuole dirvi due parole. Sì, sì, sì. Oh, no, Padre... ...degne il banchimo scopare l'amore. Gran bel discorso, Presidente. Oh, no, Padre... ...degne il senso a noi... Oh, no, Padre... ...degne il senso a noi... ...degne il tempo a noi... ...degne il senso... ...degne il senso a noi... ...degne il senso... ...degne il senso a noi... C'è Creator, E ...degne il senso a noi... ...e produced il nostro soggetto